Oggi chiediamo allo Spirito Santo che accetti la consacrazione della nostra vita. Dal libro di Isaia, capitolo il 44, versetto il terzo. Io farò scorrere acqua sul suolo assetato, torrenti, sul terreno arido. Spirito del Signore, tu ti doni a me. Ebbene, oggi anch'io voglio offrirmi interamente a te. Prendimi come sono. Non ho molto da darti, poiché tutto ciò che possiedo, compreso la mia stessa vita, appartiene a te. Accettami come un'offerta d'amore, come un sacrificio che si dona a te. Voglio essere come incenso che brucia davanti al tuo altare e che diffonde profumo alla tua presenza. Voglio essere come la mirra che i sapienti venuti dall'Oriente offrirono a Betlemme. Ti consegno ogni goccia del mio sangue, ogni cellula del mio corpo, ogni battito del mio cuore, ogni movimento dei muscoli del mio corpo, ogni mio respiro, ogni pensiero che mi passa per la mente. Tutto ti offro perché tu lo rigeneri e lo trasformi in un arcobaleno di benedizioni per il mondo intero. Vorrei che tutti facessero una profonda esperienza dell'amore divino. Vorrei che questa esperienza scongiurasse le guerre che sconvolgono i cuori, le famiglie, le nazioni. Accettami come un'offerta, un sacrificio gradito di amore. Amen